Buongiorno a tutti e benvenuti. Stiamo sugli ultimi scenari delineati a livello di mercato. In questo senso, ultime di mercato. Non che ci siano ultime notizie di mercato, ma ci sono ultimi scenari di mercato, che vale la pena commentare e valutare. Quando io dico cose come quelle che sto per dire, non lo faccio né per spegnere gli entusiasmi dei tifosi, né per polemizzare con chi, in base alle sue rispettabili e legittime fonti, apre scenari di mercato. Ma faccio il mio commento cercando soprattutto di non alimentare illusioni fra i tifosi. Mi riferisco a Irassi. La Gazzetta dello Sport ha fatto uno scenario che, per carità, dal punto di vista della Gazzetta ci sta. Clausola bassa, giocatore di rendimento, decreto crescita ancora in vigore fino a fine febbraio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Irassi è impossibile. Ed è uno scenario. Io onestamente, onestamente, non ho gli stessi segnali, non ho la stessa pista calda, ma arrivo a commentare che è abbastanza normale, nel senso che sul mercato è importante ragionare per priorità. E la nostra priorità, in questo momento, non mi sembra essere l'attacco. Non mi sembra essere... Cioè, noi dobbiamo ragionare sul mercato invernale come di un mercato a meno che non mi si dica Milan prendi Ghirassi e poi l'anno prossimo sarà la tua prima punta titolare. Allora, questo sarebbe un altro tipo di ragionamento. Tu fai un'operazione a gennaio che non farai più in estate. Ma poi mi rispondete e mi commentate voi se ritenete, sempre a livello di commenti, non è che quello che dico io o quello che rispondete voi determina i destini del Milan e del mondo. Lo ripeto sempre. Nessuno ha la pretesa di fare un canale ufficiale per il semplice fatto che non lo è. Però Ghirassi, giocatore esploso soprattutto in questa stagione dopo alcuni anni di carriera, è il giocatore in grado di essere la prima punta per un ciclo importante come quello che potrebbe essere nel Milan dei prossimi anni? È una domanda. Se invece riteniamo Ghirassi un colpo per infiammare il mercato di gennaio, per ingentilire il mercato di gennaio, per creare entusiasmo su gennaio, francamente credo che il Milan con Giroud e Jovic per i prossimi 5-6 mesi di stagione sia coperto. Giroud a prescindere e Jovic per tutte le ultime cose che ha fatto con la maglia del Milan. Jovic oggi non è più il giocatore che era meglio se non prendevi nessuno, non è più il giocatore burletta, non è più il giocatore insulto, è un giocatore che da diverse partite a questa parte arrivo a dire da Milan-Fiorentina, quindi da dopo la sosta per le nazionali di novembre ha aperto una striscia in cui in ogni partita in cui scende in campo fa qualcosa di significativo. O a livello di occasione, o a livello di assist, o a livello di cosa. Per cui onestamente con questo tipo di fioritura insisterei su Jovic, per il quale aggiungo c'è ottimismo sulla sua presenza in panchina contro il Sassuolo. Ottimismo non significa firmare una cambiale, non significa mettere le mani sul fuoco, perché questo in 25 anni di Milan, l'ho sempre detto, la salute dei giocatori va seguita minuto per minuto, giorno per giorno, sempre, sia nei momenti di emergenza e infortuni, sia nei momenti di grave emergenza e infortuni, sia nei momenti di normalità. È un criterio che bisogna seguire sempre. Per cui c'è ottimismo per Jovic, lo registro, ve lo provo a raccontare e speriamo bene. Per cui non mi sembra francamente che ci sia una necessità assoluta di una prima punta. Le priorità sono altre. Le priorità sono certamente in difesa a centrocampo. Certamente. Priorità uno. Unissimo la difesa. Priorità il centrocampo. Un livello di allerta sottostante. Però anche a centrocampo, se pensiamo a Ben Nasseri in Coppa d'Africa, se pensiamo all'infortunio di Pobega, chiaro che anche a centrocampo gli occhi sono aperti, evidentemente. Da parte nostra, da parte nostra che seguiamo il Milan, non per trattative di mercato. Per quanto riguarda la difesa, Matteo Gabbia viene dato per vicino, mancano solo i dettagli da chi segue il mercato con attenzione tutti i giorni, di questo ne avevamo già parlato ieri. Chi potrà essere il secondo? Ci sono nomi che vengono fatti da tempo. Perché, insomma, anche su chi vi orra dell'Arsenal si prospettava qualche settimana fa uno scenario simile a quello di Ghirassi, però poi bisogna fare i conti con questi grandi club. L'Arsenal è un club importante, potente e ricco di Premier League. se decide che chi vi orse lo tiene, chi vi orse lo tiene. Quindi i nomi sostanzialmente sono Bouchelet del Paris Saint Germain, Thilo Kerrer e il buon Langlais. Questi sono i tre nomi. La mia sensazione è che con la presenza in questo momento in rosa di 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 test magari a gennaio anche per lui intanto Gabbia poi nel corso del mese di gennaio il Gabbia più uno che dicevo ieri potrebbe essere un Gabbia più un giocatore di cui non è ancora stato fatto il nome che potrebbe arrivare in prestito. Ricordiamo tutti che quando arrivò Tomori nel gennaio del 2021 è arrivato senza che nessuno nelle settimane precedenti aveva fatto un nome di Tomori. Quindi potrebbe essere una cosa così. Poi se del livello del rendimento di Tomori lo vedremo però potrebbe essere una cosa così. Quindi questa è la situazione. La sensazione mia personale è che il mese di gennaio ci dirà che anche a centro campo sarebbe giusto fare qualcosa di significativo. al di là dell'assenza di Musa contro il Sassuolo. So che i tifosi su Musa dopo la parita di Newcastle sono sono impazienti sono insofferenti e li capisco perfettamente. La situazione nostra di questa nostra stagione non è semplice. Questa cosa degli infortuni sta deformando i nostri umori le nostre giornate il nostro modo di vedere le cose quindi è chiaro che i tifosi come voi sono assolutamente da capire. Però al di là della circostanza al di là della situazione del 30 di dicembre della parita col Sassuolo sono convinto che quando un giocatore poi inizia a fare lavoro a parte ritorno in gruppo e quindi in partita non è lontano secondo me il mese di gennaio aprirà un tema centrocampo per il nostro mercato e potrebbe essere risolto come il più uno della difesa vedremo. Più tardi.